Dove stai andando? Sono andando a giocare a pallone con Luca e Giacomo Mi hai fatto i compiti per le vacanze? Si Li faccio dopo Certo, li fai dopo Ma tu non ci metto molto Hai iniziato a farne quando ho finito la scuola E poi ti sei bloccato Ti sei bloccato No, non ci metto molto No, dovevi farne almeno 3-4 pagine al giorno Te lo davvero, te lo giù Guarda, se rimane l'ultimo momento a fare i compiti come gli altri anni Va bene Io te lo sto promettendo Va bene, ciao Lo sapevo che andavo a finire così Lo sapevo Io come una scema che ti mandava a giocare quando avevi tutti i compiti da fare Adesso non me ne frega niente Rimani fino alle 4 del mattino e ti finisci i compiti Non mi interessa niente io come una scema Che ti credevo pure Adesso stai lì E se domani torni con una nota che non è finito i compiti Io veramente Guarda, guarda Daniele